buongiorno buongiorno ma buongiorno oggi è una giornata un po nuvolosa però noi andiamo a fare una passeggiatina c'è già un signore che abita qua di fronte che sta tagliando l'erba col decespugliatore penso che si senta è già da un'ora che che ci dà dentro vedete è un po fermo vedete sta pulendo qua fuori dall'aria camper ci sta dai avrebbe potuto aspettare ancora un'oretta comunque ma va bene va bene andiamo a farci questa breve passeggiatina dopodiché torneremo nel campo per far colazione vi volevo portare a far vedere cosa hanno montato quelli del comune qui per i ragazzi o per chi ci vuole venire questa pista per i biker questa pista per fare le acrobazie opera semplicemente per far allenare i biker che sono quelli che hanno quelle biciclette quelle biciclette per fare le acrobazie vedete vedete bike parkitect il mio inglese non è tanto però vedete hanno fatto montare questa pista parabolica per fare allenare o divertire questi ragazzi qua con le biciclette bellissimo qui a fianco c'è un campo da tennis vedete c'è un semplice campo da tennis anche questo in erba sintetica per essere un paesino sperduto sulle colline diciamo che il comune si è dato da fare per rendere questo paese anche per i giovani comunque abbastanza vivibile con delle cose che possono aiutare a livello ricreativo i ragazzi giovani poi magari avranno fatto anche altre cose lo scopriremo in questi in questi due o tre giorni che staremo qui adesso stamattina poi andremo in paese a fare un giro in paese così vi porto con me a visitare un po' questo paese vediamo un po' cosa cosa offre a dopo ci stiamo recando in paese andiamo un po' a vedere che cosa offre il paese alla popolazione e ai turisti qua ci sono i bambini che giocano a pallone deve essere o qualcuno che abita qua nel paese o qualche figlio di camperista ora vi faccio vedere il carico e scarico dove si trova per i camper vedete qui c'è lo scarico delle grigie per le acque grigie ecco il paese e subito a destra qua poche centinaia di metri dall'incrocio lì all'uscita dalla stradina vedete già qua si intravede l'ufficio postale qui chalet delle feste qui probabilmente ci faranno delle sagre delle feste da ballo ed è subito subito all'uscita del camping del camping scusate dall'area sosta camper e adesso ci accingiamo ad andare in paese vedete qua c'è il cartello aria camper attrezzata piscina comune di ponti in vrea e adesso andiamo in paese ecco da qui incomincia il paese di ponti in vrea vedete qua subito c'è un bar però è chiuso continuiamo ad andare avanti questo è il paesino non è molto grosso però diciamo che qualcosina per le persone che vivono qua c'è questo è un piccolo parco vedete questo è un piccolo parco dove la gente si può venire a sedere a rilassarsi un po' c'è qui in fondo il monumento dei caduti di guerra suppongo perché c'è anche quest'asta per la bandiera dunque si difatti era come come dicevo monumento ai caduti e via adesso continuiamo il nostro cammino qui per il paese a vedere cosa offre qui di fronte c'è un tabaccaio col bar adesso non entrerò nel bar perché mi sono dimenticato la mascherina in camper comunque c'è un'orologeria un tabaccaio e un bar qua c'è un negozietto di frutta e verdura qui sotto c'è il comune l'ufficio comunale e qui c'è una farmacia Diciamo che il paesino è questo, il Ponte Invrea, molto piccolo, molto concentrato, non ci sono grandi cose però, è antica prigione. Gruppo Alpini, sarà un ritrovo degli Alpini, andiamo a provare di qua dove si va. Vediamo un po' questa stradina dove porta, praticamente è una strada chiusa dove ci sono delle case, è una stradina chiusa dove ci sono delle case e dunque posso anche tornare indietro. Possiamo anche tornare indietro che la stradina chiusa. Ritorniamo verso il paese, a dopo. Il tour del paese è finito, ce ne stiamo tornando in camper. Oggi è nuvolosa la giornata, volevo andare un po' in piscina a fare un bagnetto ma non fa oggi, almeno che nel pomeriggio non esca il sole non fa. A più tardi.